La vera novità nel mese di aprile all'interno dello showroom Alfa Romeo Auto Ingros è la nuova versione di Alfa Romeo Giulia Rosso Edizione. Il connubio tra stile, sportività e tecnologia con un listino di 46 mila euro in Auto Ingros nel mese di aprile può essere tua questa edizione speciale a partire da soltanto 349 euro al mese. Alfa Romeo